se il tuo sudor per vivere non basta quando al calar del giorno appoggi la tua testa stai certo che il perché se non è in mezzo al campo è nella stupida ragione di aver preteso tanto e come il giorno e notte sono diversi così si vanno l'un l'altro a compensare la notte è il buio sì per riposarsi e il giorno a luce sì per lavorare e quel pensier che il giorno ti dà forza ma così tanta da farti stancare la sera lascialo in mezzo al campo perché di notte cresce e non ti fa dormire così dice il buon padre e se lo ascolterai potrai dormire coi sogni e risolvere i tuoi guai grazie grazie